Due vecchi, due persone anziane, sono di fronte alla farmacia e vedono in vetrina un prodotto che c'è scritto che fa ritornare giovani. Allora uno di Ildi era interessato, dice guarda, perché non proviamo questo prodotto? Allora vanno in farmacia, lo comprano, si ritorna giovani, benissimo. Se ne vanno al parco, si siedono in una panchina e cominciano a bere. Dopo cinque minuti, uno di loro fa, mii, si capisce, risulta il bambino, nasce a ruota, sono un bambino. Che tu ci fai, ma perché, che cosa è successo? Dici, cambia il bambino in collo.